Ciao a tutti, oggi vi presento la mia cucina tedesca, abbiamo come ingredienti gnocchi di tirolesi, in tedesco si chiamano spetzle, se volete la ricetta me lo scrivete che io vi do la ricetta per farlo, poi abbiamo di bisogno 5-6 cipolle, li facciamo andare con l'olio ben gosolati e 400 grammi di emmental svizzero tagliato finemente, questi spetzle li potete fare anche fritti con un pochettino d'olio per contorno al pollo, oppure c'è la versione con il curry, qualche volta vi farò vedere, sono facilissimi da fare, quando la cipolla è ben rosolata la buttiamo negli gnocchi, non vi preoccupate per la cipolla, a chi piace anche un pochettino di più, mescoliamo, mescoliamo, prendiamo la teglia, mettiamo metà nel composto, mettiamo la teglia, mettiamo e la teglia, mettiamo, 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 mettiamo Ora mettiamo la parmigia elementale, la metà in circa, facciamo un altro strato di gnocchi. E finiamo a coprire con il restante formaggio. Questo ora va in forno affinché si scioglie il formaggio perché pensate che spesso le vengono bollite in acqua. Mentre si fanno, per cui sono già quasi cotti. Ecco qua. La mettiamo in forno. A forno caldo ora inforniamo i nostri gnocchetti a 220 gradi affinché il formaggio diventa bello colorito. Ed ecco pronti i nostri gnocchetti tirolesi, belli, caldi e filanti. Spero che li proverete. Se volete la ricetta mi mettete nei commenti. Ciao a tutti, un bacione. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti.